Controlli di ferragosso intensificati per la Polizia di Stato che ha operato su tutto il territorio provinciale e seguendo diversi arresti. Un 59enne di Rutigliano è stato indagato in stato di libertà per il reato di furto aggravato, un barese classe 92 è stato denunciato per il reato di riciclaggio ed un 70enne di Polignano a mare è stato denunciato in stato di libertà per i reati di violenza sessuale e minacce gravi. Rintracciato anche un cittadino extracomunitario clandestino sul territorio nazionale è rinvenuta un autoprovento di furto. Inoltre fermato per tentato, furto, lesioni e resistenza pubblico ufficiale, un 39enne pregiudicato barlettano. Numerosi inoltre i controlli con sistema Mercurio, ben 4.416 veicoli controllati, di questi poi 312 sottoposti ad un controllo più approfondito con 16 contravvenzioni al codice della strada. Sono state identificate invece 615 persone di cui 84 con precedenti di polizia ed effettuati controlli nei confronti di 55 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari e 12 sottoposti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, effettuati controlli all'interno di tre esercizi pubblici. In particolare poi a Bari, in un supermercato di Via Napoli, domenica scorsa i poliziotti della squadra volante hanno individuato, come detto, un 59enne di Rutigliano che poco prima si era impossessato di numerosi generi alimentari. Nel pomeriggio del 14 agosto invece gli agenti baresi sono intervenuti in una sala giochi del quartiere Poggio Franco dove un giovane barese di 25 anni stava giocando con delle slot machine utilizzando banconote macchiate con inchiostro indelebile antirapina utilizzato presso gli sportelli Bancomat. La notte del 15 agosto invece i poliziotti hanno denunciato un settantene di Polignano a mare che presso un ristorante di Noi Cattaro ha raggiunto una donna conosciuta qualche giorno prima insultandola e minacciandola di morte in quanto ritenuta colpevole di non voler intraprendere una relazione con lui. Il settantene è stato rintracciato dai poliziotti nei pressi dell'abitazione della vittima mentre a bordo della propria autovettura attendeva che la donna rientrasse in casa. Sempre nella stessa giornata gli agenti hanno rintracciato in Via Cardinale Agostino Cascia a Bari un cittadino nigeriano classe 84 che è stato indagato in stato di libertà per inosservanza del provvedimento dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale. A Barletta questa notte infine gli agenti di polizia hanno tratto in arresto Michele Porcelluzzi, 39enne barlettano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trani. Su richiesta della locale procura della Repubblica l'uomo dovrà rispondere di tentato furto, lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Le indagini hanno permesso di individuare l'uomo quale esecutore assieme ad un altro complice di 46 anni fermato in flagranza di un tentato furto ai danni di un circolo ricreativo situato in Via Tangredi a Barletta. Il 39enne riuscì nella circostanza il 5 agosto scorso a fuggire dopo una breve colluttazione con uno degli agenti intervenuti. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.